Ah ok, mi ricordo quello che hai fatto, anche loro se lo ricordano Tu eri la ragione Per cui siamo tutti qui, per cui noi eravamo tutti qui È successo per colpa tua E non lo puoi dire a nessuno Perché dovresti? È colpa tua Tutta Uncomfortable imagery, perfetto Ah ok, perfetto, ottimo ragazzi Il volume è già bene Se magari potessi fare a full screen non mi dispiacerebbe ma Sembra che non sarà così Va bene, Candy però non è Candy ragazzi, è Rat Deve un po' calmarsila Vediamo un attimo se nelle opzioni abbiamo Eccolo qua, Alt Enter Ok, quindi Ok, ok, ok Ho rotto tutto ragazzi Ed eccoci qua, finalmente ragazzi Five Nights at Candy's 3 Anche se in teoria non dovrebbe esserci Candy da quello che so, non ne ho idea Vediamo un po' come va Dovrebbe andare tutto decentemente Come ti senti oggi? Ah guarda, un po' di mal di pancia Sto morendo Sto morendo, ma va bene Sono passate due settimane Capisco che è stata un'esperienza molto traumatizzante Ma fortunatamente Tuo fratello non è stato ferito seriamente Devi ricordare che non erano reali Erano solamente macchine Eh, però volevano uccidermi Ma dai Non erano in grado di far male a nessuno Ma non mi dire Quello che è successo è stato semplicemente un incidente Era semplicemente rotto Ma adesso è a posto Starei bene qui Cosa? The Theater The Theater è un gioco molto bello ragazzi Ve lo porterò prima o poi Te li sei ricordati dal teatro? Ah già Il vecchio teatro A cui tu e tuo padre Andavate dieci anni fa Ah no Un anno fa Perché ho letto ten Invece di tu Vabbè Giusto, giusto, giusto Tuo padre mi ha detto Che cosa è successo Quando eri lì Che cosa è successo? Sei stato separato dall'altro? Ah già Sei stato separato da tutti gli altri Quando è accaduto l'incidente Hai ancora gli incubi Da quando ci siamo visti l'ultima volta? I tuoi incubi raccontavano dei mostri Che mi hai disegnato Sei una ragazza molto creativa Ma non puoi lasciare che le tue paure Prendano il controllo della tua immaginazione Per fermare questi tuoi incubi Dovrai confrontarti con le tue paure Devi sconfiggere questi mostri Fagli vedere che non hai paura Capisci? È l'unico modo E sembrano simpatici Adesso Mary Bloody Mary Ok Cos'era? Devo cercare di Ricordare che cosa è successo Quel giorno Un anno fa Eh no Ma volevo continuare a sentire Non puoi Tagliarmi il discorso Cos'è? Hello Hello Sono il gatto degli origami Perché? Come faccio a essere qui? Beh stai sognando In questo momento Insomma Circa Ok La stanza in cui sei In questo momento È la tua vecchia stanza da letto Prima che ti trasferissi Ma adesso Sembra che Tu quasi non te la ricordi più Eh già Hai avuto Svariati incubi Ultimamente Non è così? Beh ecco perché io sono qui Orca miseria Ho un paio di trucchi Su come sconfiggere questi mostri Ma assomiglia a Candy ragazzi Ricordi qualche anno fa Hai avuto Un problema Per addormentarti Quasi ogni notte Così Tuo padre Ti diede Un Un Cassette player Demo day Ah ok Con Una cassetta Con della musica Che aveva fatto lui Per te Così che potessi dormire Ok Scommetto che potrebbe aiutarti Anche in questo momento L'altra cosa è Che i mostri Odino la luce Ok Quindi Ti suggerisco Di utilizzare La La luce Di sparaflesciargli Di sparaflesciargli Appena puoi Va bene A meno che Non siano Sotto il tuo letto Perché Ascolta se sono lì sotto Va bene In questo caso Controlla Sotto il letto Per vedere Da quale Da quale parte Del letto sono Poi torna su E girati Nella direzione Opposta Non ho ben capito Vabbè Vedremo un po' Come va Girandogli La schiena Li Li farai uscire Dal letto Ah ok Ascolta Per il suono Che fanno Quando escono E poi E poi Guardali Diretti Negli occhi Insomma Per Per sparaflesciargli Negli occhi Adesso Cerca Quelle cassette player E io resterò qua Se ti serve aiuto Ok Allora Il cassette player Non penso che sia qua E tu smetti di girarti Perché sei molto inquietante Tiririn Allora Cassette player Cos'è Questa è La deep scape Qua Ah ok Dove le tue Più vecchie memorie Si trovano Va bene Ti sto parlando Dal dreamscape Ok Ok Vedi quelle strane robe Particelle Robe Eccolo là Hanno Ah ok Hanno creato un passaggio E così Così il cassette player Dovebbe essere un po' più avanti Ricorda solo di restare Orca misera Di restare sul Sul cammino Perché Poiché le Le ombre Non ti prendano Ok Se ti perdi Io ti posso portare indietro Ma unicamente Se ti trovi Su questo passaggio Non posso raggiungerti Se ti trovi Nell'oscurità Ah ok Fammi sapere Se devi ritornare indietro Premendo R Perfetto Non voglio premere R Sinceramente What Orca miseria Ragazzi Ma che Che bella L'animazione Della corsa Adesso però Con calma Ragazzi Che cos'è qua Posso leggere Sta roba Secondo me Ah va bene Il passaggio Non porta Per forza A una destinazione Fantastico Me ne sono accorto Comunque A questo punto Ragazzi Direi di leggere Anche Che cosa C'è scritto Qua Sotto There's nothing On the back Ah beh Grazie Volevo leggere Attenzione Alle ombre Resta sul passaggio Va bene Restiamo sul passaggio A questo punto Ragazzi Andiamo dritti Preferisco Orca miseria Una macchinina Wow Rallenta un attimo Sei tu La mia vecchia amica Pensavo Che ti fossi Dimenticata di me E' stato abbastanza Noioso qui Non c'è abbastanza Spazio Per correre In giro Nella scatola Dei giocattoli Mi ricordo Quando Di solito Giocavi con me Ogni giorno Era molto divertente Dovremmo farlo Sicuramente di nuovo No Che tristezza Ah beh Immagino che tu Non sia venuta Fin qui Solo per me Dovresti cercare Quello che stavi cercando E muoverti Ok Grazie Con calma Se hai qualcosa Da dire Dillo adesso E dillo Non so Qualcosa Non so Staremo tutto L'episodio Solamente in questo Sogno Quindi preparatevi Un pezzo Di questo Un pezzo Di Un pezzo Di un giornale Leggiamolo Dopo aver chiuso Così presto I nuovi Animatronici Wire Non so Sono stati mandati Al Delle voci Dicono che Gli animatronici Saranno utilizzati Come una base Per nuovi design Di avanzati E completamente Mobili Animatronici Che si pensa Che saranno utilizzati In un progetto futuro Ok Quindi Questo Questo ret E questo cat Che adesso Dovremmo incontrare Nei nostri bellissimi sogni Dovrebbero essere Quindi stati utilizzati Per fare Candy Chester E quegli altri Playbay Mi pare di capire Prendiamo sto tape recorder Un attimo Che è questo Prendi Oh grazie Arcade game 1 Ma siamo già in un Aspetta Forse adesso Back to the dream scope Scape Sì Andiamo Andiamo ragazzi Ho il tape recorder Perfetto L'hai trovato Ti ricordi come si utilizza Sinceramente no Sì Lo so Che mi farà dormire bene Che permette Alla notte Di passare Molto più rapidamente Orca miseria Ok Ci sono tre bottoni Che lo fanno funzionare Play stop E rewind Sfortunatamente Ma dai La pausa E l'avanti veloce Sono rotte Non sono utili per te In ogni caso Quindi non pensarci Premi play Per far andare avanti Sto nastro Stop Per fermarlo Ma non mi dire Ah ok Puoi soltanto Farlo andare indietro Dopo averlo fermato Ok Ma non vedo Per quale motivo Dovrei fermarlo Cioè Non lo so Puoi smettere Di farlo andare indietro Premendo stop Mentre sta andando indietro Ok Ok Dopo che Che Il nastro è finito È finito Devi farlo tornare indietro Più che puoi Questo è tutto Buona fortuna Con gli incubi Ti faccio il tifo per te Ma Ma No Non voglio Go to sleep Orca miseria The first night Ragazzi Qua la vedo male Allora Orca miseria Che bel caricamento Ragazzi Farò solamente la prima notte Perché è troppo inquietante Sì Cos'è qua Mi pare che quello è il Dauco Questo è un riferimento a Smike Dov'è il tape recorder Orca miseria Ah è qua Devo far play Ok Questo è Do's Night Trachers Questo è Pop Goes Questo sembra una cosa brutta Allora devo sparare Flesciarli negli occhi A meno che non Cos'è? Ma sono appena le dodici Jacksepticeye Bellissimo sto riferimento ragazzi No dove è dove è Non so dove è Non so dove è Non so dove è Orca miseria Marca player Mamma mia Cos'è? No no Devo rewind Eh Ho paura? Please Dove sei? I'm scared Dov'è? 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 Non so dov'è E' qua da qualche parte ragazzi Non so dov'è Non so dov'è E' sotto al letto Oh my god Non era sotto al letto Dov'è? Calmi ragazzi Orca miseria Eh cosa devo fare? Ti fisso negli occhi vecchio Si Invece si Ti sto fissando No Ti ammazzo Cosa devo fare? Allora devo controllare In che parte del letto è Ok Quindi adesso Devo girarmi di schiena Giusto? Io Ucciderò Rat Gli spaccherò i denti Chi z'è? Orca miseria Cos'è? Perché sei qua? Allora Allora Piene ben ragazzi Ok 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 Giriamoci Hello Mamma mia Mamma mia Mamma mia Ragazzi Ti ho sentito Chi bussa E forse cut Ma Queste scarpe E ce l'abbiamo fatta ragazzi Così si batte la prima notte su Five Nights at Candice 3 I Five Nights at Candice non mi hanno mai dato un grosso problema Immagino che il 3 però me lo darà Non so per quale motivo Orca miseria A sto punto facciamo anche il minigame Ma non so Se c'è un autosalvataggio Spero di sì Perché non mi piace Cos'è? Buongiorno Ti spezzo le gambe Ah ok Allora posso correre? No non posso Cosa abbiamo qua? Staff area Ok Solo per gli impiegati Armadio Mi posso nascondere dentro? No Ciao bambina Non ho visto il pupazzo del ventriloco ancora Ho sentito dire che è grande come una persona Che inquietante è que Ciao Ti disturbo? Ti sta divertendo? Più o meno Ah questo probabilmente è il nostro padre Spero che tu sia felice con il posto che ho scelto di portarti insomma Siamo solamente noi due Mentre tuo fratello è al campeggio Così tu potrai decidere che cosa mangeremo per cena quest'oggi Ok Voglio andare in bagno Non devo andare Ok Sì ma cosa devo fare qua? Cioè Ah il kid qua Questi giochi arcade sono così noiosi Ma io non voglio parlare con Rat Ho chiesto una volta a Rat Se poteva comprarne altri molto presto Ma si è un po' arrabbiato Rat è molto cattivo Beh ho notato Jungle ping Ping ball non mi dispiace Anche astro Potrei passarci giorni qua ragazzi Per favore non appropriatevi dei giochi E condivideteli con gli altri Va bene Qua che cosa abbiamo? Ah mamma mia Distruggi la talpa È bellissimo Mi sono sfraccellato il polso Ciao Rat Che brutto rumore Uh no Mai più Ehi bambino Io sono Rat Felice di incontrarti Ok Dimmi Lo show sta per iniziare tra pochi minuti Vuoi giocare a nascondino? No grazie Ma non è divertente? Ah vabbè Torna indietro se cambi idea Ma io non cambierò mai idea Backstage Ok Qua c'è un'altra bambina Vediamo se mi vuole uccidere pure lei Mi piace questo teatro La mia famiglia Viene qua da mesi ormai Ti piace anche a te? Eh ma se Se magari potessi rispondere Boh Allora giochiamo a nascondino con Rat ragazzi Però mi sa che andrà molto male Vabbè Vabbè Ottimo Nasconditi E io resterò qua Conterei fino a 100 Divertiti Ah so dove devo nascondermi Devo nascondermi nell'armadio Sicuro come la morta Che devo nascondermi là Allora voi due Continuate a parlare Tanto tra poco muoio Vai 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 Armadio time Sì No volevo fa Maledizione Sono abituato a cambiare con le frecce No Che cavolo era Ti ho trovato Ma come Maledetto Boh vabbè Poteva essere l'unico posto in cui potevo nascondermi In tutto il locale ma Quindi era un po' ovvio però Però questo è tutto ragazzi Per questo episodio Era piuttosto lunghetto Ci sono stati Dei minigame Riesco a capire ragazzi anche Come mai un bambino potrebbe avere incubi su questo personaggio Ma voglio aspettare di vedere l'arrivo di Cat Che sono piuttosto curioso Quindi ragazzi Questo era tutto quello che potevo fare per questo video E noi ci rivedremo sicuramente nel Prossimo video